Ho detto imbandita e chi è arrivato? Geppetto A parte che non stai morendo Ok sei morto Cosa vuoi anche? Un caffè prima di morire Perché ragazzi partano le rapide Tum turutum Tum turutum Enderman non ti posso colpire lo so con le frecce Ciao a tutti nini Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua su minecraft Oggi siamo sulla ragecraft Per l'appunto Che è la serie dove io Ragecraft impossibile CTM Blah 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 Sto morendo incatenato Ho letto dei commenti ragazzi Aspettate che devo tornare tanto indietro Mi merita andare giù direttamente Allora ragazzi Tanti voi mi hanno detto Mi hanno dato un tip Praticamente Mi avete detto Sbusci perché non vai Dove sei stato prima Quindi Dentro la cascatina No in realtà dove ero Ah sul castello dovevo andare Scusatemi Oddio la bottiglia Perché non vai sul castello E provo a rompere la gravel Che c'è anche dopo il muro Ho riguardato il mio video Cioè in pratica Dove c'era la porta chiusa E' apparsa O c'era già Non me ne sono accorto Della gravel no Mi hanno detto Perché non provo a romperlo Sicché ora tornerò lì E vediamo E vediamo Se posso andare a romperlo Oppure no Si divertono a chiudere le porte Mentre parlo Diamine Allora Allora Dovremmo già essere molto vicini Se non sbaglio Ah vi avviso anche Che è arrivata la famosa roba Di cui vi parlavo Che ha visto la foto su Instagram Visto che sono prodotti laser E adesso appena ho un minuto libero Monterò proprio tutta la camera E le varie E la varia post E la varia E la postazione da gaming Per intere E poi Se vi va Scrivetelo nei commenti Farò un video a riguardo Ah Guarda che merda Che siete Schifoso Sto rompendo tutto con la spada Sto rompendo Ora mi si rompe la spada E muoio male Allora Perché qui mi avevi rotto le palle Tutti si spola Lì che lavori Ecco Deficiente Inoltre c'è anche una scala Qui se non sbaglio C'è proprio deficiente Più volte Vaffanculo Vado direttamente al cassetto Mi sono intratto le palle Allora Esatto C'è un muro di grave Ma c'è sempre stato? Sicuramente non me ricordo Boh C'ho una paletta Non c'ho una paletta Bene Possiamo fare volendo Possiamo fare un trucco Un trucco Un trucco Tatatatatata No è infinito Ah no Era semplicemente tanta Ok Qui c'è un Muro di Di ragnatele Proviamo a rompere le ragnatele Cosa c'è giù? Ah 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 C'è il teleport No Non è il teleport Ah ok mi sa che è il famoso marchi ingegno finalmente ok grazie mi ha aiutato tantissimo nei commenti mi raccomando non smettete mai di commentare come vedete sono utilissimi i commenti quindi finalmente adesso mostro tutto il marchi ingegno e posso andare lì sotto bene mi gira il cazzo che l'ho fatto stare un'altra volta ma sti gran cazzo guardate sembra una faccina sembra da laggiù io penso di aver esplorato tutto non so quanti smeraldi ho preso da questa avventura ben due non ne possiede siano così pochi dai non lo metto in dubbio guarda lì guarda dove state ah tu dimmi quanto pensai di essere schifosi da uno a due tre o stella tanto cazzo che schifosi che siete butti in acqua prendo l'acqua si prendo per forza non c'è una versione di non prenderla si vado prima a casa sistemo un po l'inventario riparo un po gli oggetti e poi torno all'attacco allora io sono per l'ansia è un quest item raccoma ma vaffanculo ecco cos'era io ci ho anche perso del tempo era il quest item non vorrei ricordarmi male mi ricordo bene mi ricordo madonna mi ricordo veramente bene praticamente vi spiego una cosa vi racconto un aneddoto quando io resettai la mappa e la portai su questo server praticamente io ho dovuto trasportare tutta la roba ovvero farmi la mappa in creative e portarmi la roba che avevo trovato normalmente nelle varie chest ed eduardo mi ha aiutato è successo praticamente mi ricordo come è andata c'era qui tipo la farina vi ricordate anche nei primi episodi c'era tipo la farina dove mettere le armature io ce l'avevo messa sopra tipo arriva eduardo lo rompe prende l'armatura addosso e non so come mi ricordo come è successo ho perso l'armatura incantata è un'armatura fortissima peraltro ecco perché non me la sono più rimessa c'era un motivo mannaggia eduardo guardate guardate re roll tac che eroe ok non devo prendere le liane perché se prendo le liane le è maiala quindi a te e no e muriccio mamma mia sbucci che pro player ok ragazzi parto alle rapide non vedo una mi perché non vedo niente ora cioè in realtà avevo fatto fin da bene fin da subito la cosa giusta castello per primo e poi dritti al punto e invece no io ho detto no ma che c'è mille oggetti per il rituale cheat cheat oh vedete tutto bello aperto vi ho sparito tutto lì c'è anche un ragno enderman non ti posso colpire lo so con le frecce io ho il netherstorm tu sei un ragno quindi muori io sto venendo colpito non so da minimamente cosa non so perché nemmeno vengo colpito fai vedere oh la lana è così imbandita eh eh ti pareva ho detto imbandita e chi è arrivato geppetto la cosa non me non mi piasa la cosa a me eh oh aspetta tiro questa tossa a te diventiamo tutti e due invisibili cioè perdiamo la vista si si so tutto come funziona e il punto è che questa lana mi sembra veramente aspetta voi due siete due ma siamo pazzi volete anche il terzo per caso ma nemmeno sbaglio vi lascio anche il terzo spam voi sei i guardiani della regina ah si ti tu shotto mi vieno dove andare a me sembra cioè una trappola no light grey crystal ah che goduria io voglio questo materiale che è bellissimo lo voglio per la mia casetta sull'albero anche questa glowster rompo tutto non me ne frega niente l'altro vi eh ah infatti eh avevo detto che mi sembrava una trappola no io l'avevo detto eh ma non c'è eeeh simpatici bene o male bene o male si simpaticissimi tutti tutti belli e simpatici si 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 voglio combattervi tutti non me ne frega niente si 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 tutti vi combatto tutti non me ne frega niente le trappole ma chi siete per mettermi le trappole a me ma chi pensate di essere ma serio ma voi siete seri tutti e ti ributto di sotto anche che perché si spona anche te qua non mi interessa ti butto di sotto io vi uccido a tutti vi uccido non mi importa ma ci vuolo spawner quindi se non dirò un po' muoio di continuo che top però che bene essere davvero ti aggiro vi aggiro tutti non mi interessa e poi qua parte la bambola parte la bambola e vi butto tutti via ok non mi interessa ora si sale per le scale ok e buttiamo questa lì a profusione proprio tatatatata perché vi ho tirato tipo una pozione in faccia non ho colpito niente nessuno ora ti ho colpito per forza a te eh a te 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 si gli altri non lo voglio sapere non lo so nemmeno questa lana era abbastanza facile questa lana era da 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 collettare era molto semplice sinceramente devo ammetterlo bene non ci dovrebbe essere più nessuno bene perfetto abbiamo debellato tutto posso fare così tac tac figa e mo andamo a piazzare lana ok l'ho presa meno male è bello ah the king of the mountain pam rotte le gambe qui come al solito ci piazziamo ragazzi due lane la lana light grey crystal boom attenzione dammi dammi reward dammi reward dammi dammi reward dov'è ehi la bom 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 se io rompo un cubo di smeraldo non mi stavo chiedendo lo posso ripiazzare ci si prova ragazzi no ok aspettate se succede però rimetto tutto rimetto il cubo di nuovo rimetto il cubo apposto non lo metto su un'altra però ho buggato la mappa cioè incredibile vorrei sapere se questi smeraldi mi valgono o no ma facciamo così ragazzi voi sarete contrari io piazzo questo cubo di smeraldo nel nel blocco dopo per vedere se davvero ho buggato la mappa altrimenti cioè se funziona bene se non funziona lo rompo e lo rimetto a posto altrimenti se funziona cioè se funziona lo prendo il prossimo cubo di smeraldo lo metto qua voglio provare non mi dire ho buggato la mappa ragazzi ho buggato la mappa quindi per chi volesse farla meno challenging ok appena ha un cubo di smeraldo in pratica ha tutti gli item disweapon garant resistenza e nuova scelta in alza mano fire aspect e sharpness 5 ragazzi io sinceramente pensavo fosse così aggirabile questa cosa una cosa positiva è che possiamo finalmente mettere tutte queste pozioni di merda a posto è che ci sono pieno ma pieno 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 proprio ne ho piene le palle allora fai vedere questi ne ho due arcesi ne ho due arcesi ne ho due arcesi ok quindi devo scegliere un nuovo power up what the fuck subito porca troia aspetta aspetta adesso mi do a ferro e diamanti con il prossimo ok in pratica adesso un mob su 10 per farla matematicamente utile mi troppa un iron ingot ovviamente non è uno su 10 ma 100 su 1000 in pratica a livello dopo dall'interdizione 4 che bloccherò tra poco mi danno del diamante invece si è detto summoner lair ok summoner lair oddio ho detto vai ora e butto di sotto muoio subito all'istante da quello ho capito in pratica c'era tipo delle persone che avevano degli schiavi questi schiavi si vogliono ribellare e loro sono stati cacciati però quando è arrivata la tenebra sono ritornati perché hanno trovato l'opportunità questi stregoni qui spawnano altri schiavi ok e hanno una proiettile protection incredibile quindi è praticamente inutile provare a ucciderli con arco e frecce ne spona tanti tipo sono dei ecco ma te li ha descritti come spawner mobili a parte che non stai morendo ok sei morto oh i silverfish mi mancavano era tanto che insomma non c'era un silverfish perché non muori ancora in un colpo ho una spalla di diamante cosa vuoi anche un caffè prima di morire perché c'è un enderman qui che ti tusciotto davvero e la madonna però che è sta roba dovrei tusciottarti non ti tusciotto ma perché succede ma che fastidio comunque io per questo è tutto abbiamo trovato una lana stavano nella prossima zona allora dire la verità sembra complessa anche se ho detto il contrario anzi vi guardate ho detto tenete a mente le mie parole però allo stesso tempo non sembra troppo difficile io spero la cosa di sbagliare vi ho fatto arrabbiare vi giuro che volevo solamente vedere era una curiosità non lo sapevo funzionava così speravo non funzionasse così comunque ho già 4 smeraldi ne troverò altri 5 in teoria in questa volta quindi sono precisi per arrivare a 9 e vi prometto che rimetto lo smeraldo nella prima posizione per essere anche un po' in pace con me stessa e poi anche perché l'ho promesso anche a voi quindi tanti mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale e passate anche dei messaggi che sono qua sotto in descrizione noi ci vediamo anche al prossimo video per questo video è tutto ciao Nini iscriviti al canale